Siamo nello skybox della provincia quotidiano con Massimo Lattuca, storico libero del frosinone di Alberto Mari, ha giocato nel frosinone calcio negli anni dall'86 all'89. Quindi noi Massimo siamo contenti di averti qui con noi e tu hai visto questo frosinone giocare al Matusa. Anni importanti con Alberto Mari, la prima volta nella quale il frosinone ha sperato di andare in serie B. Ora raccontaci le emozioni, mi hai detto che mancavi da tanto tempo, di questo ritorno a Frosinone. L'emozione è grande, mi ha fatto enormemente piacere venire qui, vedere questo gioiello di stadio e poi comunque anche se era qualche tempo che non veniva a Frosinone lo seguo sui giornali, lo seguo in televisione, conosco bene le vicende della società e sta facendo un percorso incredibile e secondo me con un futuro ancora più radioso. Non farei molti confronti tra quest'epoca e la nostra, anche se anche noi abbiamo dato le nostre soddisfazioni. Tu quando sei arrivato a Frosinone, non direttamente, ma venivi da un'esperienza nel Latina Calcio. Ai tuoi tempi e fino a qualche tempo fa il derby con il Latina era un derby sentito. Come sei stato accolto, visto che già avevi giocato nel Latina allora? Sono stato accolto bene. Devo dire che problemi di questo tipo io li ho avuti più nel passato, successivamente. Nel senso che a Frosinone mi hanno sempre accolto bene. A Latina non mi hanno mai perdonato il passaggio al Frosinone. Ah, quindi l'hai avuto al contrario il problema. Tu ovviamente quando hai smesso di giocare hai fatto per tanti anni il procuratore di calcio. Raccontaci questa esperienza e soprattutto questo ruolo del procuratore è cambiato. Recentissimamente è stato modificato. È stata un'esperienza che rifaresti? Sicuramente la rifarei. Ho avuto la possibilità e la fortuna di iniziare nel contesto giusto molto giovane e ho fatto per vent'anni questo lavoro. All'epoca si basava fondamentalmente sul rapporto fiduciario tra calciatore e agente e quindi emergevano certe qualità e certe capacità e professionalità nel procuratore. Poi dopo qualche anno questo mondo è cambiato e la figura del procuratore ha modificato la sua funzione orientandosi più a servire il club piuttosto che il giocatore e io dopo vent'anni ho deciso di cambiare la propria strada. Hai fatto l'osservatore. Quindi hai fatto l'osservatore e adesso hai un progetto che è veramente interessante del quale mi parlavi. Così insomma in modo divulgativo se ce lo puoi raccontare questa tua esperienza così le persone di Frosinone che ti hanno amato come calciatore sanno che cos'altro hai fatto in questo periodo. Circa 8-9 anni fa sono stato chiamato dall'Ecce, dall'allenatore, all'epoca era in Serie B perché tentavano questo allenatore di fare un esperimento come allenatore manager e mi aveva chiamato delegandomi l'attività dello scouting. Io un po' perché ritenevo finito la mia esperienza come procuratore, un po' perché fortemente motivato dal richiamo della foresta che è il calcio puro mi ci sono buttato e da lì poi ho proseguito questo percorso e mi sono focalizzato sull'analisi della prestazione del calciatore. Prima ho pubblicato un libro e ora da anni sto lavorando. Come si chiama questo libro che hai pubblicato? Si chiama Analisi e strumenti per un calcio moderno e adesso sto nell'imminenza di lanciare questo programma, un software che è un sistema di analisi della prestazione del calciatore orientato al video scouting, all'osservazione in televisione che ormai è la modalità diffusa per fare scouting. Veniamo alla partita di oggi, hai visto questo primo tempo del Frosinone, che cosa ti sembra e dalla tua esperienza, visto che hai un'esperienza a 360 gradi nel calcio, quale sono le individualità che hai apprezzato, la partita, tutto quello che vuoi insomma su questo primo tempo? Sicuramente sono due squadre che puntano entrambi per salire in Serie A, però il Frosinone sinceramente mi è sembrato più organizzato, sia come squadra, sia come filosofia di gioco che si vede che ha le basi per un calcio moderno, porta sempre cinque giocatori nella fase offensiva e sul piano individuale mi sembra che siano stati tutti all'altezza. Il Parma fino adesso mi ha un po' deluso. Di questo calciatore, al di là dell'Eurogoal che ha fatto oggi, di Ciano, ci puoi dire qualcosa in più? Ciano lo conosciamo, è da tanti anni che gioca in questa categoria, ad alti livelli e è pronto per il grande salto. E' uno di quei giocatori che insieme ad altri, quindi in questa squadra non è il solo, che però hanno un qualcosa in più rispetto agli altri. Quando tu giocavi il ruolo del libero era completamente diverso, ogni calciatore aveva l'uomo di cui doveva occuparsi. Secondo te com'è cambiato alla luce del calcio moderno il concetto di responsabilità del giocatore? Partiamo dal significato della parola responsabilità, ossia abilità della risposta. Oggi il giocatore deve trovare soluzioni diverse a problematiche differenti, ma sul piano del principio le cose non cambiano. Sicuramente il gioco a zona è qualcosa che ormai fa parte, sono passati talmente tanti anni che siamo in pochi a ricordarci del calcio a uomo. Arriviamo quindi a una cosa più moderna, il VAR, questa nuova, ovviamente in B non si usa, in Serie A. Come cambia la visione proprio del gioco da parte dello spettatore, la fruizione? Perché una volta era tutto più immediato. Oggi, soprattutto chi non si trova in campo e vede, deve aspettare soprattutto la ripresa televisiva. C'è quell'attimo dove aspetti ad esultare. Come lo vedi cambiato? Intanto sei favorevole a questa nuova tecnologia? Io sono favorevole sia per il contenuto tecnico che evita e riduce ai minimi l'errore dell'arbitro e i sospetti verso gli arbitri. Ma poi lo ritengo anche un momento emozionante e quindi spettacolare che può essere inglobato per un calcio che ormai è diventato spettacolo. Quindi noi, diciamo in questo momento, e speriamo vada tutto bene, stai portando bene a questo Frosinone. Noi ti aspettiamo, pensi veramente alla luce di quello che sai del calcio che possa aspirare alla massima serie al Frosinone? Direi proprio di sì, la squadra è attrezzatissima per arrivare in Serie A, anche se poi è un campionato lungo e difficile. L'esperienza dello scorso anno ha insegnato molto, anche se è stata, secondo me, colpa della sfortuna, non di mancata programmazione o di chissà che altro. Per cui io sono fortemente ottimista. Massimo, sai che Frosinone è casa tua, noi ti aspettiamo ancora. Grazie a voi per l'invito.